Buonasera, sono Laura Antichi Ho intenzione di presentarvi il progetto Google Earths and Culture Scrivete Earths and Culture nella casella di ricerca di Google e raggiungete il sito Vi mostro in effetti l'applicazione dal sito Esistono indubbiamente le app per iOS e Android che come mostrato in un altro tutorial facilitano nella didattica l'uso di realtà immersiva e aumentata da parte degli studenti È un progetto questo che nasce nel 2011 ed oggi si arricchisce con l'offerta formativa di Google di nuove proposte Lo scopo di farvi vedere questo progetto è di mostrare i vantaggi per l'insegnamento e apprendimento nell'usare strumenti esplorativi, interattivi e immersivi capaci di aprire nuove finestre di conoscenza L'effetto atteso sia che noi affrontiamo l'applicazione da web che da mobile è di portare gli studenti a scoprire nuovi punti di vista a partecipare in modo anche emozionale alla ricerca scoperta in rapporto alle discipline Se nei suoi esordi Google Earths and the culture si avvaleva essenzialmente di due strumenti le mappe virtuali per percorrere ad esempio l'interno dei musei e gallerie fotografiche dei musei Nel 2018 vengono implementate in Google Earths and the culture sempre nuove funzionalità Sono presenti ad esempio gite virtuali sulla luna, la barriera corallina eccetera eccetera Lesson plan, è possibile anche scaricare piani di lezione, è possibile guardare opere d'arte e navigare nei musei Si possono affrontare argomenti culturali disciplinari di storia naturale, geografia, musica, arte Si possono fare esperimenti sfruttando l'intelligenza artificiale ad esempio per creare melodie, esperienze CO2, art coloring, book e game e tantissime altre proposte Ora andiamo ad esplorare il sito Vediamo già nell'interfaccia del sito che avvengono vetrinate tutte le proposte del sito che viene continuamente aggiornato Quindi vedete ad esempio qui il portrait of extraordinary musical dog di Rain Eagle del 1805 che è in primo piano che può essere esplorato Poi vedete qui gli ultimi in primo piano queste applicazioni Poi i games, i molto molto interessanti I post in primo piano sull'impressionismo Le esperienze interattive ad esempio Create a song with machine learning molto interessante Andremo a vedere l'esplorazione dei musei Come potete vedere Quindi in collaborazione con Street View Vedete da lumino E poi molte altre cose artistiche Poi ci raccomanda di andare a vedere alcune applicazioni Di esplorare anche le gallerie E vedete che abbiamo anche la proposta di attività C'è il tuo colore E ti rimanda a delle opere d'arte Che sono in relazione al colore Il tuo colore preferito Come il purple ad esempio Mi dà tutte le opere appunto in viola Ok E poi vedete chi ti dà gli artworks Dopo andremo a esplorare i games, i plays, i museum eccetera eccetera Fino ad esplorare con Street View Quindi luoghi, diversi luoghi speciali Che non sarebbero raggiungibili in altro modo Per approfondire la propria cultura E anche delle interessanti avventure in 3D A 360 gradi scusate Per esempio Che possono Ci permettono di esplorare Come potete vedere Quindi alcuni interessanti posti lontani da noi Anche qui poi abbiamo le produzioni artigianali interessanti E poi sempre le arti e le collezioni eccetera eccetera L'esplorazione di vari musei Gli animali e così via E vedete che è un sito immenso Comunque pieno e ricco di proposte formative Si arriva anche al cibo Quindi alle modalità di alimentazione dei popoli E poi c'è sempre la parte interattiva Perché ad esempio ti chiede dove si trova questo graffiti Questi graffiti dove sono presenti Ecco E mette alla prova con una serie di esperienze Non ci sono solo esplorazioni ma anche esperienze Questa è la vetrina, la facciata Raggiungibile dalla home page Facendo scorrere dalla home page Ma la navigazione che si interseca Sulle stesse più o meno applicazioni Che può essere approfondita Noi la possiamo andare a fare con Nel menu in alto Con esplora ad esempio E abbiamo di nuovo in primo piano Gli esperimenti I video 360 gradi Le categorie Esplora per data e colore I temi Le collezioni eccetera eccetera Questo nell'esplora In gioca Abbiamo il play con i games Molto interessanti La possibilità quindi per gli studenti Di fare dei puzzle Anche online Di fare dei crosswords Dell'art coloring book E poi che cosa avviene prima Cioè scegliere tra gli avvenimenti Quelli che vengono prima E altri esperimenti Ad esempio Play a Kandinsky La melodia assistita Il blog opera Il paint with the music Insomma adesso anche queste Ci sono giochi molto interessanti Ad esempio questo Del mettere dei pannelli di opere d'arte Nelle città Nelle città E quindi Volevo solo E pure E sempre di nuovo Vengono le stesse cose Riproposte In maniera davvero Davvero interessante Con gioca Con qui vicino Adesso esploriamo il menu E poi vedremo qualche cosa Qui vicino possiamo Vedere che ci Geolocalizza E ci porta Il luogo in cui noi abitiamo E quindi possiamo Vedere Ad esempio tutte Le Ad esempio opere Vedete che ti da tutti Qui A lato Tutti i musei E le esposizioni Che sono nelle tue avvicinanze Ad esempio E potete zoomare Per Per trovare Quindi tutte le Le opere O i luoghi Che sono culturali Vicini Cliccando su A Brescia A lato Alla vostra Sinistra Vedete che vi da Tutti i luoghi Che potete visitare Quindi Qui I musei Ad esempio Questa è la fondazione Dei musei Il Tempio Ok Il teatro romano Il Capitolium E Voi potete Sempre Esplorare Avere Le indicazioni Il sito web Ufficiale E quindi si tratta Di avere Una visione Del qui vicino In realtà Veramente Aumentata Poi Poi Nei preferiti Trovate Tutte Le Applicazioni Che avete Salvato Quindi Ora Come prima cosa Abbiamo Esplorato Dalla Home Page Il menu Che troviamo In alto In alto E che ci permette Una prima Navigazione Nei contenuti Esploriamo Ora Il sito E i contenuti Dal menu Laterale Dalle tre Linette Vedete Che abbiamo Esplora Che abbiamo visto Prima qui Vediamo Quindi Con Light Gli Experiments Le varie Categorie Gli artisti Mezzi Espressivi Movimenti Artistici Gli eventi Storici Personaggi Storici Eccetera I luoghi Che possono Tornarci Utili Nell'approfondimento Disciplinare Esplorare Per Data E colore Come Avete visto Prima Poi I temi Alcuni Temi La storia Del Brasile Degli Indigeni D'America Le collezioni E Quindi Della Tour Eiffel Ad esempio Il MoMA Andiamo nel MoMA Ecco E Qui Vi da Tutte Le collezioni Vedete Quanti Elementi Sono Presenti Andiamo Indietro E Poi Le storie Interessanti Settimanali Quindi Con dei contenuti Editoriali Da leggere Leggi Esempio L'esplorazione Spaziale Online Possiamo condividere Tutte Queste Storie Storie Interessanti Vedete Esempio Possiamo condividerle Sui social Poi Poi abbiamo Gli Argomenti Più consultati E Questo Troviamo Appunto Nell'esplora Gli Experiments Che andremo a vedere Dopo Sono davvero Molto Molto Interessanti Come i Video A 360 Grad Andiamo Avanti Qui vicino Come Avevamo visto In alto Qui vicino Ok Quindi Quello che Ci riportava Già il menu In alto E Poi Gli Esperimenti In Primo Piano Gli Experiments Molto Interessanti Anche Questi Andremo a vedere Qualcuno Ad esempio Questo Del E Soprattutto Voice For Change Che Io trovo molto Ma molto Interessante Questo Emozionale Sulla Sulla Musica Ed altri Tutti gli esperimenti Quindi Dalla Menù Laterale È possibile Beh è possibile Anche mettere l'italiano Come lingua Che ci facilita Magari La Consultazione E E Quindi Entriamo Qui Con gli esperimenti Di Google Ritorniamo Poi Sempre Nel menu Laterale Alla Nostra Sinistra Gli artisti Abbiamo tutti i vari artisti Van Gogh Monet E Eccetera Eccetera Quindi Molto Interessante Anche Per Per l'arte I mezzi Espressivi Quindi Quindi L'inchiostro Il tessuto La carta Il metallo Approfondimenti Di Vario genere E Poi I Movimenti Artistici Questi Da Integrare Proprio Nella Nella Nostra Didattica Romanticismo Rinascimento L'arte moderna Eccetera Eccetera Surrealismo La pop art Così via Gli eventi storici Che avevamo visto Anche da sopra Qui La Noi possiamo entrare Direttamente A Scegliere La Le cose Gli eventi storici Che Ci interessano di più Rispetto alle nostre discipline Vedete Ad esempio Ho scelto La guerra fredda Ti dà già Che cos'è la guerra fredda E Poi Vari approfondimenti Un sacco di approfondimenti C'è il rischio anche di perdersi Se non c'è una forte progettazione didattica E E Quindi I I I personaggi storici Li troviamo A Trump Joe Biden Putin Obama Sì Quindi Molto Molto Interessanti Personaggi storici Luoghi Quindi Varie Vari luoghi Molto Interessanti Da esplorare Significativi Quindi Da esplorare I luoghi E poi Ecco E questo È tutto Per quanto riguarda Più o meno La Esplorazione Del Menu Nella Parte Sinistra Del sito Quindi andiamo Nella home E andiamo a vedere magari Gli esperimenti Ecco Gli esperimenti Gli esperimenti Gli esperimenti di Earth and Culture Sono Come avete visto questi Traduciamo in italiano Tutti gli esperimenti di arte e cultura Io avvierei come esperimento Questo dell'impollineatore di Pathmaker Ad esempio Puoi interessare o meno Comunque vediamo come funziona Ti dà una panoramica Quindi Quindi Dell Dell'esperimento Ti dice che cos'è Che gli impollinatori Se gli impollinatori progettassero giardini Giardini cosa Vedrebbero gli umani Eccetera E' una campagna Per creare arte Per gli impollinatori Piantati e curati dagli umani Quindi Vogliono trasformare Il modo in cui Vediamo i giardini E per chi Li realizziamo Andiamo a vedere Via esperimento Andiamo in Start Quindi qui Ti dà il giardino Get started La location Mettiamo la location Non so Scegliamo un'altra Non c'è l'Italia Il nord In Germany Allarghiamolo Possiamo allargare Possiamo allungarlo Possiamo allungarlo Eccetera Andiamo in Next E poi Scegliamo Il tipo Di Quindi L'italiano Di Di terreno Loam Il tipo di pH Scegliamo Neutral Next Per dire dopo Lasciamo Questo Sun Empathy Quindi Quindi Mettiamo Di più Di piante Patterns Intricato Insomma Possiamo Create My garden Alla fine No Dopo avere Per dire Per dire Per far vedere Un esperimento E adesso Vedete Appunto Il Potete Il Terrino Che avete creato Potete Attivare La modalità Della Visione Dell'impollinatore Make Show El Plants Il Nome delle Piante Ti da Quindi In realtà Aumentata Il nome delle Piante Poi ti da Anche la possibilità Di Read More Ecco Andiamo Indietro Chiudiamo Qui Possiamo Anche Cambiare La Stagione Vedete E Quindi Abbiamo Possiamo Poi Sentite Il rumore Dell'impollinatore Possiamo Anche Condividere Questo Nostro Giardino Ritornando Ora Negli Esperimenti Andiamo a Vedere A Questo Voice For Change E Avete La possibilità Di Un Overview Facciamo In italiano Voce Per il cambiamento Panoramica Overview E Vi dice Che Questo Esperimento Da vita Migliaia di voci A sostegno dell'azione del clima E poi cita anche Glasgow Ed è un progetto molto molto bello Andiamo ad avviare l'esperimento Prima di entrare nell'esperimento vi dico che ti riporta anche a The Global Goals Quindi ad andare a vedere quali sono i 17 obiettivi per il clima per il cambiamento quindi globale Anche qui potete mettere l'italiano Quindi Traduzione italiano E ti dice Che Voice for Change è un mondo virtuale immersivo che ti aiuta a imparare a scoprire di più sugli obiettivi globali Lanciato quindi per celebrare l'inizio della COP26 Questo mondo virtuale evidenzia la necessità di un'azione urgente per il clima al fine di raggiungere gli obiettivi globali Quando esplori questo paesaggio unico ascolterai le voci di migliaia di persone in tutto il mondo Che chiedono il cambiamento e l'azione che desiderano vedere nel mondo il sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite Poi le voci del cambiamento Il mondo dei Goals E tutto quanto insomma è da esplorare molto utile dal punto di vista didattico E ti da anche quali sono i 17 obiettivi globali Quindi gli obiettivi globali Che nel 2015 i leader mondiali hanno concordato 17 obiettivi globali E quindi c'è tutto qui da esplorare Alla povertà E quindi eccetera eccetera Quindi un modo per affrontare una tematica molto rilevante Legata agli obiettivi globali E in particolare ai cambiamenti ambientali Entriamo ora nell'esperimento Enter the world Che è un mondo quindi immersivo E quindi andiamo come ti da tutti quanti gli obiettivi quindi globali Questo mondo immersivo vai avanti Si può procedere Quindi avanti Vedete che è un mondo Ah sono ritornate indietro Vabbè Ecco vedete Vediamo se prendiamo degli obiettivi globali Ecco quindi un obiettivo l'ho Sono riuscita a prenderlo Questo è quindi anche questo Per quanto riguarda il life below the water Eccetera eccetera Fate tutto il vostro esperimento Cercando nell'ambiente proprio Cercando nell'ambiente proprio Quali possono essere gli obiettivi globali Anche questo Vedete il global 12 E vedete comparire qui Negli obiettivi globali In questa rosa Negli obiettivi globali Ecco Il pre-mate Vengono sempre fuori finestre qui Va bene E quindi Andate a navigare Cliccando con il sinistro del mouse E girando Vedete Potete esplorare Proprio l'ambiente E quelli che possono Alla ricerca degli obiettivi globali Qui Vedete Che altre No poverty Si è aggiunto E quindi Girate ancora Finchè Non Non avete raggiunto Tutti Li avete Fatti tutti Dopo che Avete finito Per esempio Niente fame Dopo che avete Finito Di Di fare Questo Esperimento Potete Questo L'acqua E quindi Vedete che Si va avanti Quindi un gioco Molto Ma molto Interessante Che è in linea Con Quello che è Il Nostro modo Di Vivere i problemi Oggi Dopo Potete Comunque Andare a home Dopo che avete Comunque Navigazione Continua Qui Siamo Nel Comunque Nella Superficie Di sotto Comunque Dopo che avete Finito di fare L'esperimento Ti dice Che Poi Condividere Il Condividere Quindi Seleziona Per attivare La condivisione In prossimità Un dispositivo A tua Disposizione Quindi Sono Necessari Ulteriori Informazioni Scegli questo Oppure Copia collegamento Invia Per 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 post Eccetera Molto Questo Si ricomincia Va bene Quando Lo Vale E Anche questo Da Navigare Con calma Per Poter Fare Questa esperienza Significativa E Culturale Un Altro Esperimento Dimostrativo Che possiamo Fare Quello L'esempio Del Disegnare Con la musica Che Questo è Molto Emozionale Lanciamo Subito L'esperimento Quindi Avvia Esperimento Ecco Che Si apre Paint With Music Ecco Ti chiede di scegliere l'ambiente Scegliamo Andare Water E Quindi Andiamo Subito A Quindi A Segnare Sentite Scegliamo Un altro strumento Scegliamo La tromba Il violino E Realizziamo La nostra Pittura La nostra Composizione Pittorica Musicale Mettiamo Dei pesci Nell'ambiente Perchè siamo nell'ambiente marino Poi Posso cambiare anche l'ambiente Posso avere delle info E posso condividere naturalmente sui social Ok Anche questo esperimento Quindi Emozionalmente Ha La Sua Pregnanza Per Rimanere Nel Nell'ambito della musica Scegliamo questo blob Opera Ecco Un altro esperimento Vedete Loading E adesso andiamo La Lance Experiments Ecco Vedete Quindi Pro E Vediamo il mezzo soprano Il soprano E posso registrare quella musica che ho fatto con un record Posso silenziare poi anche qualche voce durante la mia registrazione Quindi Quindi Poi c'è il Take the Blob Sound Tour Mi fa vedere Anche l'esperimento desecrazione Interessante car hire perché ci fa vedere l'impatto della microplastica dell'aria e quindi le ripercussioni sull'ambiente avvia l'esperimento anche questo insomma potete avviare questo esperimento ecco, vedete, guardate questo è un esperimento molto significativo dell'impatto appunto che la plastica ha sull'aria vedete le fibre e quindi i film eccetera i frammenti e poi ti dice anche che cosa devi fare ti dà dei consigli su che cosa fare per minimizzare, cioè ridurre l'uso della plastica che porta tanto inquinamento all'ambiente, all'aria anche questi dopo potete naturalmente condividere i risultati l'esperimento della plastica nell'aria ci dice quello che rimane nell'aria quando smaltiamo la plastica gli esperimenti sono tantissimi ce ne sono anche di molto complessi andiamo a farne uno dei più popolari l'Art Coloring Book Lance Experiments dal caricamento in corso e andiamo a scegliere uno facile e breve da fare qui vedete che avete i colori e dovete colorare il quadro ad esempio la pelle le mani poi coloriamo i capelli qua mettiamo lo sfondo mettiamo uno sfondo innanzitutto mettiamo un viola mettiamo anche qui uno sfondo viola coloriamo l'altro pezzo di capelli clicco sul colore coloro i capelli e poi coloriamo il vestito possiamo fare un colore rosso coloriamo la cintura la facciamo l'aria gialla ok e poi se noi clicchiamo su dunque lo sfondo lo abbiamo messo sui contorni aspettate che devo mettere il nero ho messo lo sfondo cambiamo il colore delle mani del viso e ho messo anche e quindi i contorni insieme qui mettiamo il cambiamo di nuovo lo sfondo mettiamo uno verde anche qui è un verde ecco abbiamo quindi colorato il nostro quadro di questa che si sta pettinando ok potete poi anulare una delle operazioni che avete fatto se non siete soddisfatti potete cancellare o potete scaricare sul vostro computer l'immagine che avete colorato oppure condividerla sui social e anche in classroom andiamo ora a vedere il puzzle a parte avete un overview lanciamo l'esperimento lancio l'esperimento e questo si tratta di fare un puzzle decidete quale quadro utilizzare per il puzzle se il giocatore è singolo o multigiocatore facciamo giocatore singolo e qui avete l'immagine proprio da ricreare ok e e procedete alla creazione del puzzle aspettate che bisogna spostare le tessere per realizzare per realizzare il quadro ok dovrò spostare anche questa tessera qua perché se non riesco a incastrarle e procedete per poter spostare le tessere queste tessere già composte insieme dovete cliccare sul sposta in gruppo quindi spostate gradualmente le vostre tessere in gruppo ecco ho quindi creato il puzzle ho chiamato il puzzle mi dà le congratulazioni posso andare a fare un altro puzzle e questa è la partecipazione quindi immersiva un'opera d'arte un altro esperimento interessante è quello dello street galleries Lance experiments che avvia esperimento devi scegliere una una location che ti ispira e quindi creare una una galleria inspire me ad esempio vai a vedere quello che è stato creato ad esempio questo delle donne e andiamo a creare questo sulla situazione delle donne start start creating start creating e ti dà una serie di landscape e portrait da poter utilizzare da mettere quindi a combinare non lo faccio tutto ma era per semplicemente far vedere da sul quindi agendo sulle maniglie per creare questa arte di strada quindi è un bel esercizio artistico ma anche che implica la molta manualità per la creazione di opere pittoriche create new gallery potete scegliere un'altra location eccetera beh comunque potete qui con ad work andare a scegliere un altro un'altra immagine da vediamo insomma un paio da sistemare sugli edifici in maniera tale da chiudiamo questo se no non vediamo dove lo rimani si vede ecco lo raddrizziamo insomma bisogna con un po' di pazienza realizzare le proprie opere d'arte d'arte ok ok un po' su più su di qui ecco insomma sistemandolo bene se ricordatevi che con poi andiamo lì qui bisognerà metterlo il vertice più in su e come vi dicevo poi con add artwork scegliete un altro un'altra rappresentazione se la volete fare ad esempio sulle donne il problema quindi della credenza sulle donne il problema di Kabul le donne di Kabul e andate a poi costruire la vostra opera pittorica molto interessante anche questo una volta che avete finito di fare la vostra opera creando una galleria di strada andate e potete quindi condividere il risultato share sui social network oppure anche in classroom condividere il link come per tutti gli altri esperimenti un altro esperimento è what came first che cosa viene prima anche qui possiamo lanciare l'esperimento e incaricamento ti chiede quali avvenimenti sono avvenuti prima e alla fine ti attribuisce un punteggio raggiunge raggiunge un punteggio gli esperimenti che si possono fare sono infinitamente tanti tutti molto interessanti sta poi nell'insegnante scegliere quello adatto alla classe e agli obiettivi di apprendimento della classe stessa comunque vale la pena poterli fare farli per poter quindi attivare una serie di abilità come vedete eccoli qui infinitamente tanti sempre in experiments with google vi mostro adesso una particolare applicazione andiamo a cliccare in alto nella barra di navigazione experiments come vedete e cerchiamo tra i vari esperimenti flum launch experiments ora con il mio cellulare vado a inquadrare il codice qr mi riporta alla pagina di flum clicco su let's go e vado a esplorare con explore un punto del pavimento clicco sul punto di questo pavimento e mi darà un tunnel nel south pacifico océan c'è dall'altra parte del mondo posso ora andare a quindi cliccare su south pacifico océan ok che me la vede in google earth rimpicciolisco e mi riporterà la mia location dove sono io ora ok vedete questa è la zona dove abito e poi posso vedere naturalmente spostare anche l'omino poi posso vedere anche diciamo qui in 2d il luogo e ho tutti i riferimenti da poter andare da poter andare a vedere dico su street view non è disponibile qui vediamo di toccare una località evidenziata in blu e entro quindi in street view e posso naturalmente spostarmi come potete vedere in street view anche questa è un'applicazione molto interessante per navigare e poi posso anche condividere il link di questa location bisogna ricordare che flume è disponibile mettiamo l'italiano solo utilizzando chrome sui dispositivi android con un dispositivo supportato scansiona il codice ti diceva qr con la fotocamera del telefono per portarti al sito mobile attraverso mobile quindi attraverso il cellulare un altro ed emozionante esperimento è quello della hopper dei penguin explorer andiamo a lanciare l'esperimento let's go qui scriviamo una location ad esempio via cipro 97 grescia italia andiamo facciamo invio vedete che mi da via cipro e adesso posiziono in un punto il mio pinguino date che apro un po' posizioniamolo qui il mio hopper e vedete che ho il pinguino sulla strada che posso poi spostare quindi è una simpatica applicazione molto emozionante ed immersiva questa lo faccio tornare magari indietro ecco il mio pinguino per strada naturalmente posso prendere take a picture e quindi scegliere se voglio un'altra location andando nella mappa vi presento un altro esperimento che si chiama Poem Portraits che è presente negli esperimenti di Google e che permette attraverso l'aggiunta di parole di contribuire al poema collettivo vado in Lance Esperiment qui ti dice che è un esperimento che si basa sulla collaborazione tra intelligenza artificiale e umana e dice dona una parola che entrerà a far parte del poema collettivo quindi vado in begin entro con la parola ho scelto Saul donate alla community continuo mi dice di dare l'accesso di autorizzazione alla telecamera mia e quindi clicco su foto e vedrete ora comparire il testo che si è arricchito con la mia parola infatti posso salvare il portrait l'immagine sul mio computer e andare alla collective poem che è stato elaborato che viene elaborato e riaggiornato in continuazione in base alla parola che ho inserito quindi emozionalmente è un'esperienza che può essere utile per gli alunni per finire questa presentazione che è molto incompleta ma per avere qualche assaggio della potenza di google earth and culture andiamo a vedere i video 360 gradi molto qui immersivi esempio andiamo a vedere Bruegel ok questo è il questo è il quadro di riferimento vedete vedete che possiamo girare il quadro in diverse angolazioni e poi vedete come sia immersiva la visione del quadro e vediamo proprio gli angeli qui in virtual reality possiamo ora andare nella nebula di orione vedete anche qui è veramente una trascinando la visione è una e quindi posso muovermi anche da qui vedete quanto sia immersiva questa visualizzazione della nebula di orione possiamo fare lo schermo intero e anche andare con le impostazioni entriamo ora nella sala operativa della Hubble mission e vedete come virtualmente possiamo essere presenti a quanto succede nella base operativa andiamo ora a visitare Palmira è molto immersiva alla fine della pagina possiamo visualizzare altri video 360 gradi visualizza vediamo qualcosa anche da qui ad esempio per quanto riguarda Elliot Island ecco questa è una presentazione comunque chiudiamo questa presentazione andiamo a vedere l'incontro con il delfino nella grande barriera con Alina questo apriamo a schermo intero vedete quanto quanto è tutto immersivo vedete quanto quanto è tutto immersivo esco questo un po' sostituisce quella che erano le esplorazioni di Google sostituisce anzi le integra con Google Earths and the culture come abbiamo visto abbiamo la possibilità di avere molte esperienze immersive e di realtà aumentata da far fare i nostri studenti quindi sta a noi progettare l'attività didattica che possa sfruttare al massimo queste opportunità offerte da Google vedete 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 vedete